Primo giorno di prove con il cast al completo. Si lavora oggi sulla sistemazione della scenografia innanzitutto. Si tratta di un nuovo lavoro sulla figura di Faust che si intitola Faust l'attimo irripetibile. Nei giorni scorsi ci siamo dedicati soprattutto allo studio dei vari personaggi, un lavoro essenzialmente fisico e che precede lo studio dei testi. La distribuzione dei testi e le prove proseguono. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.